Amati, dal 2.12 fino al 12.12, si apre una finestra cosmica per riallinearci con la nostra divinità, per continuare a riplasmare il nostro modello di dodicesima dimensione, rimuovendo il vecchio e tutti i programmi mentali progettati per controllare la nostra coscienza. È un passaggio importante per continuare a riconquistare la libertà, soprattutto in questo periodo di grande distrazione, ma anche perché è qualcosa che nessuno potrà mai toglierci, la famiglia, l'amore incondizionato e la compassione, che è il nostro stato naturale di essere tutto l'anno, non solo in questa stagione. Valori che dobbiamo promuovere in ogni momento, e che l'intelligenza artificiale e altri programmi di controllo mentale stanno cercando di sradicare da noi. Il portale del 12.12 rappresenta il culmine di tutto il lavoro di integrazione che abbiamo svolto durante l'anno. È il culmine del bilanciamento delle polarità, dell'attivazione della nostra linea di diamante e del nostro chakra della stella Terra, tra le altre attivazioni che abbiamo sperimentato quest'anno. È il momento di continuare a costruire i nostri corpi di dodicesima dimensione, passando ora a riconnettere il nostro chakra di decima dimensione, dopo aver ritrovato la connessione con la nostra monade. In questo momento è sempre, rimanere nei nostri cuori più alti e compassionevoli, per noi stessi e per tutti, perché siamo tutti un'unica famiglia, è la chiave per continuare a stabilizzare la frequenza di quinta dimensione, già ancorata in molti luoghi della Terra, e, soprattutto, in molti di noi per primi. Condivido un decreto universale per tutti voi che siete guidati a continuare a riaffermare la vostra scelta di ascendere, rimuovendo tutto ciò che è inorganico e falso, attraverso il potere della parola, della vostra voce unica, della vostra intenzione e del vostro comando. Come sempre, modificate a vostro piacimento, perché siete voi stessi i maestri della guarigione. Ringrazio il team del Se Unificato e le guide per avermi aiutato a rimanere sempre sotto la luce di Dio. Decreto Io, con il mio libero arbitrio, rimuovo, guarisco e ripulisco tutti i programmi non benevoli nel mio DNA, e nel mio corpo mentale che mi impediscono di reclamare la mia sagoma divina e il mio vero potenziale. Dissolvo eoni di distorsioni femminili e maschili, abbraccio le mie polarità opposte, risveglio il mio corpo di luce e ricollego la mia linea di diamante, che funziona come trinità con la mia anima, la mia monade e il mio Dio personale, in perfetta risonanza e allineamento con il mio scopo personale e planetario. Pertanto, chiedo al mio Se Unificato e alla squadra di guide personali nominate da Dio, di aiutarmi a rimuovere dal mio corpo fisico e non fisico tutti gli squilibri, i falsi programmi e gli impianti che controllano la mia coscienza, come quelli della dualità e altre credenze che controllano il mio libero arbitrio e la mia espressione divina, e qualsiasi altra cosa che non sono in grado di testimoniare dalla mia prospettiva fisica. Mi dichiaro un essere sovrano, libero e divino, responsabile del mio corpo, della mia coscienza e della mia esperienza fisica. Sono integra, guarita e determinata a seguire la volontà di Dio e a servire tutta la creazione, con amore incondizionato e testimonianza compassionevole. E così sia. Grazie, se unificato e guide, per il vostro aiuto nella mia guarigione personale e nel mio viaggio evolutivo. Abbiate tutti un passaggio amorevole e armonioso, amati. Con amore infinito. Canale, Natalia Alba. amorevole e armonioso, amorevole e armonioso, amorevole e armonioso. amorevole e armonioso, amorevole e armonioso, amorevole e armonioso.